Alla gara di domani ad Istanbul cercheremo una prestazione che ci permetta di consolidare l'attuale momento di forma per proseguire un cammino già promettente in top 16. I nostri avversari hanno vissuto dei profondi cambiamenti nelle ultime settimane complice la sostituzione del coach ma già li conosciamo dalla regular season come una squadra, un organico molto profondo, ambizioso che vorrà cercare contro di noi il primo successo in top 16 e che li possa rilanciare anche in prospettiva qualificazione.